e in onore alla mia coca cola stiamo parlando di questo messaggio quando è uscito Slenderman che vi ho sempre fatto abituare che Slenderman usciva sui 10-15 minuti invece con Sanitorium se ci avete fatto caso è uscito a 4 minuti e qualche cosa questo ragazzo mi fa oggi alle 19.54 mentre stavo seduto davanti al pc appena acceso guardo che CiccioGamer89 ha postato un nuovo video la mia prima reazione è stata vado subito a vedere il video e tra l'altro c'è una punteggiatura fantastica ve lo farai vedere stavo bevendo la coca cola quando al minuto 4.20 vedo lo Slenderman sputo la coca cola su tutto il monitor dalla paura la lattina si accartoccia come un foglio di un compito di mate usato sarebbe di matematica usato credo io rimango lì fermo a guardare il monitor pieno di coca cola e tu che ti spaventi e lo Slenderman che ride grazie a tutti e 염ion